Nessuna via di scampo Nuova parte di resistance Ok Allora dove eravamo rimasti Ah si che la Francia aveva deciso dalla nostra amica Cacchio il magari se non c'era Niki ma la comanda Nord Potrei passare con lei al dunque Eh forse forse Vabbè Allora Via via Ecco che arriva Fermi sul posto Via 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 Sono qui Mamma mia Chi è prendete questo brutto nerd Eh adesso matta Prendete sto rischio brutto nerd Dove siete Vedete questo? Ma quanti cacchio sono? Sergente Hill I sistemi di sicurezza sono stati disattivati I nostri campioni di chimera sono in pericolo Devi ripristinare l'alimentazione I chimera non devono essere l'angelo L'angelo? Che chi è chi è di sicurezza è? Cosa? Le ali da... No basta con queste Pantegan ne ha rotto le balle morti? si si chiama davvero qua regna un silenzio di tomba possibile che siano tutti morti mamma mia che diavolo era? dove andai? mamma mia mi fa venire i brivi di questa situazione troppo silenzioso l'aria di una trappola e lo sapevo alle spalle non vale brutti schifont alle spalle oh eh non vale vieni qui a niente ma anche se non ho capito niente di quello che viene allora ancora Allora, ho detto che le spalle non le ha, le vuoi continuate, potete fare un tipo oggi? Viva il vero! Merda! Ehi Ho capito cosa dicono Tornati indietro assumete la posizione Oh porco Giuda Se vi comincio a capire vuol dire che sto diventando anche io un chimera Porco Giuda Mi sono inspettato anche io aiuto Mi serve l'antirabbica Non voglio diventare un chimera Cacchio, avere due occhi Avere due occhi è bello mazza Ehi E vado via tu, ho spiegato munizioni e basta No, meno male un po' l'Auger serve a qualcosa Niente Andiamo Cos'è, bombe, ah le bombe backlash Backlash O backlash Stavolta però non ho capito cosa ho detto Ma questo lo cazzo Abbattetelo Ti abbatto io Brucce bestie Ehi Dei che attaccavi Queste bombe sono invincibili Ah 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 Queste bombe sono invincibili Guarda Oh no Cosa è sto ruore? Oh! Ancora maledizione Eccolo lì Che cacchio sono? E va a fare i versi sti qui Ma va cagava Lo faccio vedere io Non ci provare Ma bello Eh sì bello per modo di dire Perché davvero se ti guardi bene in faccia È proprio schifo Ciao ciao Ecco fatto Problema risolto C'è un bion? Andiamo Qui non c'è niente da prendere Un po' di munizioni Un documento magari Cacchio No niente Oh è da sti barboi Ehm vabbè Mamma mia però che buche fatte bene Oh meno male un po' di vita Niente Come ho detto Come ho detto Parca miseria Madonna Che cavolo era quella cosa lì? Non ho capito Non ho capito Cos'era Questa arma qui? Questa arma qui? Eh Eh bué bué Quello rumore è Mamma mia Mamma mia però Quella trivella Le ha fatte per bene Le buche Ma però Bisogna proprio ammetterlo Usiamo un po' di fare stampa E basta E basta Solo qui Che schifo Cazzo Adesso muori E non roppere Il cazzo È un attimo che devo recuperare La mia povera vita Dove sei? Crepa Cazzo Ho quasi perso la vita Ho quasi perso Con due chimera Per colpa di sta merda Arc charger Dovremmo chiamare Merda Ma va Ah te ne va Ma come mi son ridotto Va Allora La porta è a te chiusa Vediamo Devo trovare qualche interruttore Magari Ah eccolo qui Detto fatto Do 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 Ecco la canzoncina Eccoli Adesso Ci siamo Una E una Due Tutto bene chimera Ma speriamo di no Ok Ok Terra La mappa Non me ne faccio niente Non mi piace Questa storia Qui Affatto Non mi piace Perché mi dà Le mutine Da rosemore Cani di merda Fantastico In due Aia No 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 Ma mola Non va a fanno Tuo Ma mordi Il culo Di tua madre Aia che male Minchia mi ha filato il braccio Cani di merda Cattivi Non vedo proprio una mazza Ma dove sono sti interruttori Cacchio Si può accendere un po' la luce L'ambiente è buio Ah forse saranno questi Infatti Avevo provato a chiamare Aia subito dopo la frana Sapevo come i chimera avevano trovato il comando E soprattutto Sapevo perché Volevano il contenuto del convoglio diretto a Manchester Ora era sotto controllo Nella vasca di un nostro laboratorio biologico Pensavamo che non avrebbe potuto attirare chimera da dentro la vasca Ci sbagliavamo di grosso Non c'era modo Di avvertire Aia del pericolo Aprendo la vasca Si sarebbe scatenata una catastrofe Il contenuto avrebbe potuto ucciderlo Cosa? O controllarlo Il contenuto avrebbe potuto ucciderlo Il contenuto avrebbe potuto ucciderlo